Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. E che non tiene conto dei mutamenti intercorsi e delle strategie che si stanno delineando anche a livello internazionale. È d'accordo con quanto scrive il Movimento 5 Stelle? L'invio delle armi e il sostegno militare che avevamo attuato e deciso di attuare con atto parlamentare fino al 31 di dicembre deve essere rispolverato perché è pieno di polvere ed è stato superato dagli eventi del campo? Adesso prenda fiato lei perché mi rendo conto che leggere la prosa del Movimento 5 Stelle non è affare facile a tutta la mia solidarietà. Però lei ha letto la prima parte ma c'è una seconda parte, adesso poi lei prende un bel respiro nel quale si dice che rispetto a quello che va fatto domani si auspica la lettera B. Questa è una cosa tipo la research di Proust, un più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento con riguardo alle linee di indirizzo politico che verranno perseguite dal governo nei più rilevanti consensi eccetera eccetera Sostanzialmente dice rispetto alle armi Si è perso e si è perso Con tassi nei più rilevanti consensi europei Inclusa l'eventuale decisione di inviare a livello bilaterale nuove forniture militari Allora, non scomodiamo Ugo Tognazzi però diamo la lettura Il punto politico è davvero... esatto Allora, vado al punto politico Il Movimento 5 Stelle A non sta chiedendo nessun nuovo voto o di rivedere la politica che l'è stessa ratificato del governo rispetto anche all'aiuto militare che si sta dando all'Ucraina Chiede che un più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento Che significa magari aumentare il numero di incontri tra i ministri e il Presidente del Consiglio Non significa affatto rivedere quello che è stato fatto fino a questo momento Se l'italiano ha ancora un senso Poi a livello bilaterale l'Italia non ha inviato nulla Tutte le forniture di armi sono state decise a livello internazionale Dalla Nato agli altri quasi oltre 30 paesi che invino armi rispetto a quello che il governo ucraino ha chiesto Non all'Italia singolarmente ma alla comunità internazionale Mi pare che davvero il 21 giugno sarà ricordato, ripeto ancora una volta, come la giornata del sostizio d'estate Rovente peraltro ma non mi pare che politicamente ci si discosti di un millimetro rispetto a quello che finora è stato fatto Quindi riconoscendo la bontà di quello che ha fatto il governo Mettendo l'accento sulla de-escalation militare che questo governo non da adesso ma da mesi Perché l'incontro con Scholz, Macron e il Presidente Zaleski non viene deciso 24 ore prima Ma ha avuto una fase di preparazione lunga, parlo di cose che so Oltre sei settimane a riprova del fatto che questo paese, l'Italia, questo governo È in prima linea nella ricerca della pace di un negoziato con Mosca e con la Russia E quindi, come dire, state faticando molto Mi rendo conto, avete tutta davvero la mia incondizionata solidarietà Ma non mi pare che ci sia una notizia rispetto al chilometrico Ho visto a sudare le fatidiche sette camicie Giorgio Mule, noi ovviamente siamo tutti qua ironizzando su un comunicato stampa Molto lungo, un po' verboso, che arriva 12 ore dopo il termine della riunione del Comitato Nazionale Che è avvenuta in realtà questa notte Resta, diciamo, probabilmente è anche complicato per un movimento, diciamo, diviso al suo interno E che sa che qualunque cosa si fosse votata domani in Parlamento in Italia Comunque, per esempio, il Consiglio Europeo aveva già pronta una risoluzione in cui si diceva Banalmente, no, no, noi continueremo a sostenere le armi Quindi la posizione di Conte, possiamo anche dire questo, non è semplicissima Ma forse il Movimento 5 Stelle poteva votare, diciamo, con più attenzione a marzo Quando nella risoluzione votata si dava mandato per tutto l'anno per proseguire l'invio delle armi Forse bisognerebbe votare con un po' più di attenzione in Parlamento Ma c'è, le chiederei un supplemento a questo punto, diciamo, di commento Alla parte su Luigi Di Maio No, peraltro, scusi, no, no, solo per precisione Non venne votata perché il Governo chiese di votare No, no, è ancora peggio, tra virgolette Cioè, fu il Movimento 5 Stelle, primo firmatario della risoluzione Che diceva al Governo Puoi mandare le armi fino al 31 dicembre È ancora peggio E ora loro dicono, è cambiata la situazione, la cornice internazionale È cambiata, vedremo da...